si dice molto emozionata per la presentazione è molto contenta ha potuto conoscere alcune persone spera che sarà sempre meglio la situazione quali sono le vostre sceglie? sono un giocatore tecnico e anche tactico posso vedere come funziona il gioco e dove devo essere sul campo sono le mie forti sostanzialmente è una giocatrice molto tecnica a cui piace molto la tattica e queste caratteristiche fanno di lei una giocatrice sicuramente importante ci sono molti nuovi giocatori spero che possiamo tutti insieme imparare da l'altro e imparare da l'altro così che possiamo giocare tutti e finalmente essere il numero uno dell'Italia spero di sviluppare e giocare bene questa season si conosce e sa che ci sono molte giocatrici internazionali quest'anno per cui cercherà di integrarsi velocemente con loro e di cercare di fare il meglio per che la squadra abbia un risultato importante il procedimento importante per la squadra come vuoi rendere la squadra che sia più importante Grazie a tutti.